E' un trend decisamente favorevole, un trend che non ci sorprende perché non è certamente dell'Abruzzo ma è dell'intero territorio nazionale ma che viene replicato specularmente anche qui in Abruzzo. Il merito di questo è un miglior coordinamento delle forze di polizia e uno sforzo corale di tutte le forze di polizia che sono presenti sul territorio. Ovviamente questo discorso va fatto relativamente comunque a una situazione che viene tenuta costantemente sotto controllo di tutta la provincia e che ovviamente può talvolta provocare qualche allarme seppur ovviamente comprensibile ma non giustificato. La fascia costiera è assolutamente un territorio che viene costantemente monitorato e attenzionato da parte nostra. Non a caso è un territorio dove le forze, l'organico, almeno quello dell'arma dei carabinieri, viene tenuto sempre e costantemente al massimo livello anche col sacrificio di altri reparti che ovviamente hanno delle situazioni dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica certamente migliori della nostra. Peraltro, come ho già detto, è previsto nel corso da quest'anno in poi un gettito a livello nazionale di carabinieri che andrà a coprire anche taluni buchi che comunque non sono sulla fascia costiera ma stanno altrove che sono stati però determinati dal blocco del turnover, il famosissimo blocco del turnover che tutti conoscete. Dove non ci sono le stazioni, una iniziativa del comando della Legione Abruzzo è stata quella di istituire questi punti di contatto, così sono stati chiamati, ovvero delle pattuglie che in orari e in giorni determinati si recano nei comuni dove non c'è presente la stazione e pur svolgendo il loro servizio di vigilanza sono pronti a richiesta del cittadino a recarsi in un comune, in un locale a loro messo appositamente a disposizione per ricevere le denunce che i cittadini possono fare.